Per un portiere soprattutto poi avere continuità nel giocare è una cosa fondamentale. L'anno scorso a Mantua ho giocato quasi tutta la stagione, poi mi è successo un piccolo infortunio che mi ha tenuto ai box per un po' di tempo e niente, questo stagione poi ho recuperato bene l'infortunio, adesso inizia una nuova stagione e mi metto a disposizione del gruppo, della squadra, del mister per dare il mio aiuto. Ho citato Termo perché comunque è sempre stata una piazza che mi ha affascinato anche quando ero a Ternana che giocai contro il Termo, è sempre stata una piazza che appunto mi ha colpito. Arrivare in un gruppo comunque con tanti ragazzi giovani è motivo di responsabilità perché comunque sai che devi cercare di insegnarli e comunque dare il proprio contributo visto che comunque arrivo da un po' di anni che gioco. Gli obiettivi si sa, ovviamente quello minimo è quello della salvezza che deve essere il nostro primo obiettivo perché una volta poi raggiunta quella si può fare uno step successivo e vedere un po' dove possiamo arrivare.